buongiorno 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 come promesso oggi sabato come promesso devo fare un video perché sabato perché sabato non lavoro quindi non lavoro in chiesa non lavoro con le scuole bibliche dal lunedì al sabato anzi no 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 oggi ho una lezione alle 15 l'ultima lezione settimanale oggi alle 15 però di mattina non avevo lezione di scuola biblica online nella nostra scuola biblica ler personalizzata online e quindi me ne approfitto per fare un video prima ne facevo di più video però non ho tempo durante il giorno non ho tempo per le lezioni con i miei studenti perché gli studenti aumentano grazie a dio buon problema e quindi me ne approfitto per fare qualche video scorsa 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 settimana ho fatto un video dal titolo ai sbarbati ministri del vangelo in ascolto prima parte oggi ai sbarbati sempre sbarbati ministri del vangelo secondo video secondo video perché questi video perché questi video perché sono mosso dall'amore mi sono ho fatto 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 poco fa mi sono fatto la barba e mi un po di forse la pelle si è alterata comunque lasciate perdere concentratevi sul video concentrate sulla parola che vi do questo giorno perché voglio aiutare questi video che faccio sono motivati perché voglio aiutare fratelli ministri uomini e che ci sono purtroppo ci sono in giro dei marpioni marpioni che vorrebbero e vorrebbero accalappiare con luci psichedeliche con fumo per attirarli a sé per attirarli alle loro denominazioni e quindi la domanda di oggi prima la domanda siccome io ci ho passato per questo vi voglio aiutare ministri ministri sbarbatelli in ascolto vi voglio aiutare c'è questo video è mosso dall'amore che io ho verso la chiesa verso il popolo di dio perché ci sono questi marpioni purtroppo ci sono questi marpioni che ti aspettano e sono lì pronti con lo zuccherino a poterti proporre le loro ultime idee perché loro sono negli anni nel ministero non farti intortare assolutamente da costoro non farti a non farti intortare da queste persone loro pensano di essere incarreggiata nel ministero dalle date datteri quindi loro sono da tempo nel ministero quindi possono aiutarti se viene da noi nella nostra denominazione noi ti diamo ti proponiamo la domanda di oggi cari sbarbati ministri del vangelo in ascolto la domanda di oggi è una domanda di mille euro che dice ma ti serve davvero ma ti serve davvero fare parte di una denominazione fare parte della copertura spirituale di queste persone ma ti ma ma ti conviene davvero quindi la domanda di mille euro oggi è ma ti serve davvero ti serve davvero questi luci psichedeliche che ti dicono noi ti diamo il tesserino pastorale noi tu farai parte della nostra affiliazione il tuo nome sarà scritto nel nostro sito tu farai parte con noi del lotto per mille e avrai un sacco di agevolazioni statali luci psichedeliche avrai riconoscimenti statali avrai la nostra imposizione delle mani avrai sicurezze varie avrai le nostre consulenze ma li troverai veramente quando avrai bisogno e abbiamo riunioni pastorali riunioni di distretto riunioni di comitati riunioni riunioni di votazione scuole bibliche di alta teologia che nausea diceva totò no che nausea che nausea quindi rifletti questo giorno ci sono troppi marpioni in giro che vogliono costruire il proprio impero e la mia risposta è anche no non farti intortare all'inizio il mio ministero mi hanno intortato e un altro pastore un altro pastore mi ha detto sai se tu fai parte di questa denominazione ti danni il tesserino di pastore come se io avevo bisogno del tesserino di pastore per cacciare i demoni immagino davanti ai demoni di quei esci fuori perché io il tesserino come l'arbitro sono tutte tutte bugie stupidaggini vanità vanità ti vogliono intortare queste grande denominazione ti vogliono intortare ti diamo il tesserino di pastore e dico ok bello mi piace il tesserino di pastore dico cosa devo fare ci devi dare 500 500 euro all'epoca 500 mila e io l'ho tolti dalla bocca dei miei figli per darli per darli a questi marpioni che si sentono nel ministero dall'età del dattero quindi ecco perché oggi io mi motivo a dare dei consigli no no dei consigli no perché i consigli non sono grazie a dare dei principi delle cose che io personalmente ho passato perché mi hanno intortato nel passato mi hanno intortato perché ero uno sbarbato ministro del vangelo e quindi ma poi col senno di poi la domanda di mille euro ma ti serve davvero a me non è servito a niente non mi è servito il tesserino non mi è servito la loro denominazione non mi è servito nulla appartenere stare con loro assolutamente tesserino pastorale affiliazione lotto per mille agevolazioni statali luce psichedeliche riconoscimenti statali sicurezze varie consulenze ma li troverai veramente quanto avrai bisogno di consulenze li troverai veramente quanto avrai bisogno io a volte ho avuto bisogno una volta a me mi hanno intortato diverse diverse volte mi hanno intortato diverse volte una volta mi hanno intortato con il tesserino un'altra volta mi hanno mi hanno intortato con il fatto che se io apparteneva a quella denominazione io avessi bisogno di insegnamenti di consigli potevo telefonare io mi ricordo che gli telefonavo avevo bisogno di consigli di consigli ma nessuno si è fatto sentire nessuno si è fatto sentire non li potrevo manco trovare quindi pagavo in questa denominazione mentre invece avevo l'appoggio di altri ministri gli altri pastori che lo facevano svisceratamente con tutto il cuore perché questa l'ho chiamata aiutare il popolo di dio quindi caro ministro caro ministro sbarbato in ascolto stai a te non parti intortare la domanda di oggi da mille euro è ma ti serve davvero ti servono davvero queste queste luci che dediche servono veramente per il tuo ministero per la tua vita veramente servono ti servono bene mi ha risposto il siri mi ha risposto non so se si è sentito del video ma comunque sia rimaniamo in concentrati quindi ma ti serve davvero sono tutte cose che ti fanno perdere il tempo quello che tu hai bisogno caro ministro del vangelo e star attaccato a gesù star accattata la parola di dio sarà attaccato star attaccato se 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 ne hai l'opportunità di la benedizione di avere un mentore che ti aiuta che ti ascolta senza interessi senza secondi fini che ti da consigli che ti guida per cui la domanda di mille euro è ma ti serve davvero ti serve davvero il tesserino pastorale l'affiliazione il tuo nome scritto nel sito riconoscimenti statali imposizione eccetera eccetera io mi ricordo che mi proponiamo delle cose se tu vuoi fare parte della sua dominazione tu diventerai questo diventerai questo io ho fatto le cose per conto mio dico signore io prego se devo avere riconoscimenti se tu me le vuoi dare se tu mi fai questi favori divini bene diversamente voglio essere un uccello di bosco meglio un uccello di bosco che un uccello di gabbia che sembra che tu non sei incabbiato che non sei incabbiata ma in realtà poi piano piano capirai e devi stare attento attento ad un'altra cosa che in base con chi vai tu ricevi la loro unzione il mio mentore che è che diceva che l'unzione si riceve per circostanza per associazione si riceve ecco dimmi con chi vai ti dirò chi sei dice il mondo ma la bibbia dice chi va con i saggi saggi diventa saggio tu prenderai la stessa unzione di color cut ti affidi di color a cui tu stai vicino e ricevi per associazione per circostanza e riceve la stessa unzione c'è un bel libro che se lo puoi trovare si intitola capire l'unzione di kene teger lì lui spiega che in base alle persone che con chi tu vai ti associ ti affidi o se ti trovi una circostanza tu ricevi quell'unzione che può essere positiva che può essere negativa per cui ma ne vale veramente la pena ne vale veramente la pena la domanda di mille euro proprio questo oggi ma ti serve davvero ti servono davvero queste cose ti serviranno veramente nel ministero queste cose non farti intortare concludo con la scrittura di primo timotio 4 13 l'apostolo paolo consiglia timotio applicati alla lettura all'esortazione all'insegnamento finché io venga non t'ascurare il tono che in te che ti è stato dato per profezia con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani adoperati per queste cose e dedicate ad esse interamente affinché il tuo progresso sia manifesta a tutti abbi cura di te stesso e dell'insegnamento persevere in queste cose perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano qui concludendo alla grande paolo dice applicata alla bibbia applicata allo studio applicata la parola di dio applicate a queste cose abbi cura di te stesso e poi dice dell'insegnamento persevere in queste cose e perché così il tuo progresso sia manifesto a tutti dio è interessato al tuo progresso le denominazioni sono interessate al loro progresso quanti siamo vedi i nostri nomi nei siti le nostre chiese nei siti quanti siamo siamo una grande denominazione anche no cara denominazione io voglio vivere con gesù con la bibbia con lo spirito santo e con gli uomini e le donne di dio ma ti servono veramente queste cose non farti intortare non farti intortare non farti intortare dal bisogno che hai di una situazione o di un altro non farti intortare noi ti diamo questa cosa che ti manca noi ti diamo questa cosa che ti manca ti diranno questi retta detattori come possiamo chiamare questi marpioni questi super mega denominazioni mega ministri mega apostoli ti offrono la protezione spirituale la protezione materiale perché ti fanno capire noi abbiamo tutto mentre tu sbarbatello non hai niente devi stare sotto di noi anche no nel nome di gesù anche no tutto quello che io ho avuto l'ho avuto fuori le denominazioni me l'ha dato il signore gesù mi ha aperto le strade mi ha aperto le porte perché lui fa una via dove via non c'è ho detto signor non voglio fare parte di nessuna più denominazione ne ho fatto parte forse tre quattro forse e tutti che cosa volevano solo soldi sotto sottomissione controllo per arricchire la loro la loro il loro piccolo regno quindi la domanda di mille euro è ma ti serve davvero dopo tanti anni ho scoperto non mi servono mi serve solo la bibbia lo spirito santo lo studio la conoscenza e i veri uomini di dio god bless you dio ti benedica buon weekend